Il protagonista dell'intervista di oggi è Max Pesenti, il più vecchio del gruppo, è una strana sensazione. Sì, è stranissima perché di solito le altre anni ero quasi sempre più giovane, tra virgolette. Però da un paio d'anni sono, tra virgolette, il vecchio del gruppo e questa cosa mi riempie di orgoglio e mi dà stimoli in più. Anno nuovo, mister nuovo, staff nuovo, le tue impressioni? Anno nuovo, speriamo di fare meglio dell'anno scorso, come mister, il ritorno di mister Pala che lo conoscevo già e pian piano conosceremo anche gli altri componenti dello staff. L'anno scorso hai promesso la doppia cifra, ci sei riuscito, quest'anno cosa ti aspetti dalla stagione a livello personale e di squadra poi? Come a livello personale di arrivare ancora ovviamente alla doppia cifra e come squadra centrare i play-off, chissà, vedremo. Hai metto un'esultanza nuova per quest'anno? No, è sempre quella, è sempre quella per adesso. Poi vedremo durante l'anno con i compagni o qualcun altro se vorremmo farle di nuove.